Il nostro territorio, la nostra Italia ovviamente è ricca di sorprese, ancora oggi non soltanto io ma la padrona di casa Donatella che veramente ne è viste di tutti i colori e uno si potrebbe chiedere ma hai visto tutta l'Italia? No, ancora si sorprende, è anche questa come dire una delle ricette che ci porta a fare il nostro lavoro con grandissima passione ed entusiasmo e le novità di quest'anno sono ovviamente soprattutto su, mi lego alla parola di Flavio che credo che raggruppi un po' tutte le nostre anche linee se non nei nostri mestieri che è la compagnia e con i giusti toni ovviamente soprattutto attraverso Donatella che è una giornalista professionista a livello anche di informazione scientifica ci sarà una particolare attenzione per i nostri ecosistemi da difendere ma anche informazione riguardo a quello che il Covid ci ha costretti a tenere da conto, quindi le parole riaperture che è tanto usata ovviamente è fondamentale soprattutto in un periodo quello estivo ma non solo ma legato anche al mare proprio come protagonista. Per quanto riguarda la mia parte spero che quest'anno ci possa essere di nuovo l'opportunità di rivivere insieme, di far sì che lo spettatore prenda il mio posto e partecipi magari ad eventi sportivi ma non solo, magari a volte anche un po' bizzarri perché è anche questo un po' il mio spirito e avrò una particolare attenzione per i piccolissimi borghi di mare, quelli diciamo un pochino più, passatemi il termine, un pochino più sconosciuti.